Un gesto d'amore, questo è il titolo della serata benefica svuotasi presso il Centro Congressi di Acquiterme, un concorso canore per giovani talenti, per raccogliere fondi per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Alessandria. Ai nostri microfoni l'organizzatrice, che si è anche esibita di inizio serata, Simona Mazza Benetti. Il Comune di Acqua si è mosso subito, ci ha fatto sapere che sarebbe piaciuto anche lui poter organizzare un evento come questo, fatto di ragazzi, un talent che fa sì che le voci della nostra provincia e anche di altre parti d'Italia, perché anche degli amici sono arrivati anche dalla Liguria numerosi, potessero far trascorrere una serata di musica, allegria e soprattutto di solidarietà. Una solidarietà che è mirata perché andrà direttamente a finire ad Alessandria, dove c'è la sede locale dell'Aism, in modo tale che questi contributi vengano poi spesi sul territorio in modo mirato. Ogni sezione ha comunque determinate problematiche del territorio che gestisce e sicuramente conosce in maniera approfondita e questo fa sì che con questi eventi sia possibile aiutarli a svolgere nel modo migliore il loro lavoro. Durante la serata, che ha avvistato il successo di quella svoltosi l'estate scorsa a Cremolino, sono stati raccolti 750 euro, grazie alle offerte del pubblico che ha assistito ad un evento benefico ma anche divertente. I ragazzi che si sono esibiti provenivano da Ovada, Acqui, Masone, Genova e Savona. Sono stati giudicati da una giuria di esperti, composta dai cantottori Alessandro Bellati, Giulia Cancedda e dal maestro Carlo Campostrini. Si sono esibiti accompagnati da splendide coreografie e da ottimi musicisti. Prima classificata la quese Francesca Pina, seconda e terza le Liguri a Narita Zobli e Alina Gravana. Premio della critica a Dominica Ceto. L'organizzazione ringrazia fortemente il Comune di Aquiterme che ha voluto la serata e si è adoperato perché tutto riuscisse nel migliore dei modi, facendosi anche carico delle spese.